Non abbiamo cominciato assolutamente bene, non c'è stato nulla di buono, se no la reazione del secondo tempo, nonostante poi abbiamo subito i rigori, alla fine potenzialmente potevamo anche vincerla perché abbiamo avuto due o tre situazioni che non abbiamo sfruttato bene. E' chiaro che è inaccettabile un atteggiamento così dei giocatori, oggi mi sento molto ferito, in più occasioni mi sono esposto, ho sempre difeso la squadra e i giocatori, per giocare a calcio ci vuole orgoglio, ci vuole il cuore, uno scontro diretto, perso tutti i contrasti, arrivavamo sempre secondi, mancanza di concentrazione e poi adesso abbiamo anche dei dati forti, abbiamo sbagliato qualcosa come il 90% dei passaggi. Oggi è un grosso passo indietro, posso accettare l'aspetto tecnico che è stato basso, però non posso accettare l'atteggiamento dei giocatori che in una partita così delicata non riescono a vincere un contrasto, non riescono mai ad arrivare i primi su una seconda palla. Ripeto, sono molto deluso, faremo una settimana sicuramente forte e cercherò di trasmettere che quando si gioca una partita di calcio non può mancare l'intensità, non può mancare la mentalità, non può mancare la voglia, quella vera però, di vincere un contrasto, di vincere la partita, di arrivare i primi sul pallone. Oggi purtroppo, ripeto, mi sento ferito perché la squadra è mancata sotto questo punto di vista. Posso far passare l'aspetto tecnico che comunque è disastroso oggi, ma non quello mentale, non esiste proprio. Penso a lavorare su questa partita, su quello che non è andato bene. Poi piano piano prepareremo la partita dal secondo giorno con l'Aglianese, c'è tanto da lavorare. Sicuramente voglio un miglioramento sotto il profilo mentale, sotto il profilo fisico, sotto il profilo tattico, ma soprattutto voglio mentalità, voglio il cuore in campo.